A poche ore dall'uscita del bando relativo ai primi 2.175 posti, missi a concorso per la regione Campania, sono già ben oltre 16.000 le domande pervenute attraverso i canali online. Un boom di iscrizioni, crediamo senza precedenti, ispirato indubbiamente non solo dalla promessa di un lavoro a tempo indeterminato in una pubblica amministrazione, una vera utopia di questi tempi, ma anche e soprattutto dalla possibilità di accedere al concorso anche per i diplomati, cui la crescente specializzazione del mondo del lavoro sta riservando sempre meno possibilità di impiego. D'altronde i bandi erano attesi da diverso tempo e la loro uscita ha generato una vera e propria ressa informatica. Ricordiamo che le domande di ammissione al concorso andranno inviate esclusivamente per via telematica, compilando il modulo online tramite il sistema Step 1 2019 all'indirizzo internet www.ripam.cloud.it. La compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 minuti e 59 secondi dell'8 agosto 2019. Qualsiasi domanda arrivata dopo questo limite non sarà tenuta in considerazione. I primi due bandi dovrebbero essere soltanto la testa di ponte del programma di 10.000 assunzioni varato dalla regione Campania, così come precisato dal governatore De Luca. Il corso concorso, così chiamato perché prevede anche formazione specifica per chi lo vincerà, è rivolto a coprire l'esigenza reale di alcuni profili lavorativi nella pubblica amministrazione campana e negli enti per cui rappresenta sicuramente un'ottima opportunità per chi, giovane e meno giovane, ambisce da tempo a trovare un'occupazione stabile.